Salve a tutti. Oggi ci occupiamo di questo dipinto. L'immagine è stata presa da un sito di immagini gratuite Pixbay. È stata estrapolata dal contesto. Questo animale è appoggiato su un tronco d'albero. È stata scontornata. Sono stati variati un pochino i colori, sempre per mezzo di un pc. Dopodiché abbiamo realizzato questo sfoglio. Di questo quadro ho realizzato due tutorial. Uno che spiega come montare questa tela sul telaio in legno. Un altro che spiega che tipo di imprimitura io utilizzo per dipingere sulla tela. Vi lascio alla prima parte del filmato e vi ricordo che potete iscrivervi al mio canale YouTube e se volete potete lasciare un like per questo filmato. Buona visione e alla prossima. Diciamo che questo valore va bene. Siccome dobbiamo sporcare la tela, lo dobbiamo mettere in un contenitore e allungarlo con un problema. Diciamo che questo valore va bene. Diciamo che questo valore va bene. Diciamo che questo valore va bene. Per il hmologio è a fornire la gomma. Faura La gente non è un'unitore da, lo dell'int energetic è totale. Faura La gente non è un'unitore. Faura La gente non è una fuita consapeva della t 가장lle. Cosa è un'unitore che due bruciилziare quella ma avanzate ed ilbehia del Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.